Ho appena speso 1000 dollari in lotteria americana Ecco Hai metto il bonus Hai metto il bonus Oggi diventeremo milionari qui a Los Angeles Perché no? Fammi credere, per favore Iniziamo Questo e mettiamo 20 dollari Questo è il primo Ed ecco il secondo Il terzo Quarto Per ora 100 dollari sono volati e stiamo a un decimo dell'obiettivo Non posso pagare con la carta Quindi devo andare a ritirare i soldi Nel portafoglio Ho già 200 dollari Quindi intanto spendo 200 dollari E poi ne ritirerò altri No Perché? Sto entrando nella banca americana per ritirare i soldi Sì ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sì Regà è stato veramente un parto E diciamo che in realtà ho speso anche più di 1000 dollari Perché mortacci loro fatemelo dire Ho ritirato 800 dollari dalla mia carta di credito E mi hanno fottuto tipo 70 dollari di commissioni Vi dico già Tutti i soldi che vincerò oggi Li riutilizzerò domani o dopodomani per registrare altri video Ho un bel po' di soldi da mettere Vai Vai Altro giro Altra corsa Olè Vabbè regà ci vediamo direttamente quando avrò preso tutto Sto quasi a metà e mi sono fermato perché c'è un signore qui dietro Che doveva prendersi di gratta e vince Stava aspettando tipo da 5 minuti E l'ho fatto passare avanti perché mi sentivo super a disagio Ok ecco qui gli ultimi 200 dollari Adesso posso finalmente andarmene e tornare a casa Fatemi un po' sbrigare e andare via da tutta la gente che mi guardava Perché veramente adesso ho paura di un assalto Sono stato chiuso lì dentro quasi un quarto d'ora Ok Dobbiamo andare a pranzo quindi scegliene uno Trattiamo questo e vediamo se abbiamo il pranzo gratis 8 10 Oh abbiamo vinto già 10 euro come prima cosa Regà come primo numero abbiamo già vinto 10 dollari 10 dollari Ok ci siamo rientrati Già con la prima linea ci siamo rientrati regà 20 dollari 20 dollari Niente 42 Eccolo ci abbiamo 42 42 si che ci abbiamo 5 dollari Questo è il primo biglietto della lotteria che abbiamo aperto Abbiamo vinto 5 dollari 25 25 Pagato 20 abbiamo vinto 5 dollari Oggi io non pranzo ragazzuoli miei Io sto senza pranzo Dai premone un altro perché non puoi non mangiare no 4 9 Guarda come non si mangia 14 No Fa niente abbiamo perso 4 Ho buttato 1000 euro Per ora non è ancora detto Magari No Non ho buttato 1000 euro fidati Secondo te questo è vincente? Dai Dai sì 12 abbiamo vinto 5 dollari ragazzi 44 Vinto Ah avevo letto 50 dollari Mi stavo casando Si può pranzare quindi 21 Un altro vinto 5 dollari Vabbè 40 dollari Vabbè Per ora stiamo a 80 dollari spesi E 65 dollari guadagnati Yeah Possiamo balanzare con 65 dollari Ecco qui il nostro pranzo E ci ha costato ben 37 dollari Buon pranzo Scegli uno tra questi E quello che vincerai lo potrai spendere per lo shopping Ok Vai Ok E se trovi 5 dollari Sono 5 dollari Non uno in più e non uno in meno Se trovi 10.000 dollari Spendi 10.000 Oh oh E al 34 vai Puoi comprarti una cosa di 10 dollari Oh ce l'hai il 9 eh Oh 20 dollari per ora eh Hai appena vinto 20 dollari 20 Pieni 20 dollari Andiamo a fare shopping con questi Sono tutti tuoi Per ora stiamo in negativo tipo di 200 euro Fine abbiamo perso Vai prendine uno a caso 32 Noi ci abbiamo 31 33 Ma lo so Sempre così Ho perso tutti i soldi Il gioco d'azzardo può creare dipendenza patologica Non giocate C'è una cosa Se monti il video di Ale Ti faccio grattare tutti i caratteri vinci a te Ma che c***o Ti sei in c***o Monteresti per la prima volta dopo tanto tempo un video che va bene su YouTube First reaction Shock Quando io facevo i tuoi numeri Sì Io ero ancora nella c***o Che disingucido Domani io vedo Andiamo in una casa abbandonata a trovare una persona Siamo troppo in negativo Tenesimo perso Ok Questo è il settimo di fila che perdo Ah vuoi grattare te? Tieni Amore abbiamo vinto Perché stai continuando a grattare? 16 Wow 10 dollari Oh 21 21 21 Wow 10 dollari Strano eh Ok raga scansioniamo qui come prima questi 20 dollari 30 dollari Ci siamo persi dei 10 dollari da qualche parte Non so dove Ah eccolo 32 32 Immaginate che taglio in realtà era tipo 100.000 dollari Oggi vinceremo Cifra importante Se andate vincerà Sì Possiamo anche non grattarlo Fare così Mostrare al commerciante questo code E lui ci dirà già che abbiamo vinto Hai vinto Hai vinto Ma se noi adesso vogliamo fare Giusto per dimostrare perché non siamo sicuri 20 per Che significa 20 per? Ok 5 20 per Ok let's go C'è abbiamo vinto 100 euro No qua non c'è nulla Ma io ancora Ecco Hai vinto il bonus Hai vinto È vinto il bonus Eccola 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 Yes Proviamo a vedere se abbiamo una nuova gioia E magari questa sera è la sera fortunata E niente abbiamo perso Voi bene faccio un altro vingo Raga adesso vi dirò una cosa strana Ross ha stranamente riperso Comunque raga Per spiegarvi una cosa Abbiamo appena vinto 200 euro Ma ne abbiamo già persi 60 Però È così Cioè lo sapevamo Si fa per il content Domani mattina continueremo Abbiamo ancora tanti biglietti Day 2 E stamattina continueremo a vincere Ma c'è 15 Ma che cazzo Ma che cazzo Come faccio a sapere Amore io sono troppo sensitiva Ok È vinto Questo ce l'ha prima alla fine 14 14 21 e 14 Doppia vittoria Sono 2 miliardi e 400 mila euro 38 Ok allora sono 5 5 e 10 5 Questo sarà un 5 e 10 E questo è un 5 e 10 Vediamo 10 Questo è 5 Quanto è scontato Il classico che ti fa recuperare Sì sì Questo è proprio Che ti fa andare in pari 45 Abbiamo vinto Gratta giù Vediamo 5 dollari Questa è il recupero 46 Sì ce l'abbiamo 5 Adesso tra poco uscirà un 10 42 eccolo qua 5 Ah là ci sarà un altro 5 Qua da qualche parte Vai Ma quanto è scontato Quanto è scontato Dai Questo dovrebbe essere perso Perso Anche questo 5 38 5 38 Vedi 10 Dai Questi due sono persi Questi due sono persi Olè Abbiamo perso Sarà che io non sono l'utopatico Però aprire 1000 dollari Gratta e vinci Veramente stancante Perso un altro Oh Hai vinto già il primo eh 5 dollari Anche il secondo Oh 5 dollari Vai siamo in positivo Di altri 5 dollari Oh Ma 37 escono Altri 5 dollari No rega ma chi 39 Oh Sono tutti vinti Oppure questo è 5 E il nostro Che è Ok no Questo è 9 Scomettiamo Puoi grattare giù Scomettiamo che questo è un milione Perché non ce l'abbiamo 30 dollari Hai visto L'unico non abbiamo Anche questo Noi l'abbiamo 5 dollari Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Noi ce l'abbiamo Rega il grattemigio più strano 29 Ce l'abbiamo E il grattemigio più strano Che io abbia mai visto Rega ma che vuol dire Dai rega Ma che vuol dire 13 Sì 5 5 Ce l'abbiamo 37 Sì ce l'abbiamo 5 36 Sì Ma è l'ultimo Una bella vincita 29 vai Rega posso dire una cosa Mi sono divertito in questo Quanto sono Guardate quanto è divertente questo Rega L'abbiamo vinti tutti Ma tutti erano da 5 dollari Non ce n'era uno da 10 Io sì Il gente mi aspettava La sorpresa finale Magari alla fine diceva Oh 20 dollari No Invece niente Questo ha perso Ultimo numero E niente Finito Adesso andrò a controllarli tutti E a ritirare i miei soldi 2 di 8 e mezzo Dove erano altri 50 Il 39 qui Che è 50 dollari Senti Senti se faccia Allora vedrai vai Ah rega ma che so Un trapper